Salve a tutti! Iniziamo oggi un nuovo progetto, o per meglio dire progettone, ovvero quello per la realizzazione di un alimentatore da laboratorio versione Mark III. Qui sul foglio viene riportato lo schema logico di quelli che saranno i principali blocchi di questo alimentatore, quindi in ingresso abbiamo la sorgente a C di alimentazione, quindi banalmente la presa di casa. Successivamente incontriamo il primo stadio, quello di PFC, quindi di Power Factor Correction, che andrà ad alimentare il secondo stadio, ovvero uno stadio a mezzo ponte, che trasferirà energia fra la parte primaria e la parte secondaria, quindi isolata dalla rete. Sul secondario poi troveremo il terzo blocco, quello relativo a un Bach singrono, che andrà a effettuare una regolazione di fino della tensione e della corrente, che poi giungerà al dispositivo che verrà connesso all'alimentatore. Il miglioramento che si vuole ottenere rispetto alle versioni precedenti, è quello di avere un isolamento fra primario e secondario che viene realizzato con un trasformatore ad alta frequenza, e quindi non più attraverso l'utilizzo di trasformatori di tipo lamellare, quindi con nucleo in ferro alla frequenza di rete di 50 Hz. Quindi questo trasformatore di isolamento ad alta frequenza, che sarà realizzato in ferrite, si trova nello specifico nello stadio di potenza a mezzo ponte, e come suggerisce la tipologia che si vuole utilizzare, sarà un alimentatore ad alta potenza. Quello che si vuole raggiungere è circa un kilowatt di potenza in uscita, ed è per questo motivo che ho scelto appunto il mezzo ponte. E ovviamente, a causa di questa grande potenza, è appunto necessario anche lo stadio di TFC. I vantaggi che si ottengono nell'utilizzare questo schema logico con le specifiche tipologie circuitali riportate sono che si ottiene una elevata efficienza di conversione energetica e si ottiene una elevata potenza di uscita dell'alimentatore. Mentre, come svantaggio, abbiamo che il circuito risulta davvero molto complicato. Infatti, ognuna di queste parti non è di facile realizzazione, e poi, sapendo che dovranno funzionare tutte e tre insieme contemporaneamente e dovranno funzionare bene, quindi senza fenomeni di instabilità, diciamo che il progetto risulta abbastanza difficile. Quindi impiegherà un po' di tempo per poter essere realizzato, ma noi siamo sprezzanti del pericolo, gettiamo il cuore oltre l'ostacolo e vediamo fin dove si riesce a arrivare nella speranza di giungere fino alla fine. Quindi i prossimi step per la realizzazione del progetto saranno una prima parte dove si realizzerà il BAC sincrono, una seconda parte dove si realizzerà lo stadio di Mezzoponde e l'ultima parte dove si realizzerà lo stadio di PFC. Quindi verranno progettate per essere indipendenti l'una dalle altre e poi, nella fase finale, verranno messe insieme per poter effettivamente realizzare l'alimentatore. Ultima precisazione è quella di spiegare il perché procedo all'inverso. Infatti, se ci fate caso, inizierò a realizzare l'uscita per poi, pian piano, realizzare l'ingresso. Beh, la motivazione di questa scelta deriva da ragioni di sicurezza. Infatti, questi stadi, man mano che si ci avvicina alla sorgente di alimentazione, saranno sempre di più in alta tensione. Quindi, quello che sto facendo è che, in parallelo, devo costruirmi dei dispositivi di sicurezza per poter lavorare, appunto, in modo sicuro su queste parti. Quindi, inizierò da qui che sarà in bassa tensione e poi, piano piano, procederò verso l'alta tensione. Molto bene! Per questo video, quindi, è tutto. Alla prossima!